Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi come puoi vedere a me EA Launcher per Windows non si avvia ovviamente ci ho cliccato sopra e aperto come amministratore e non si avvia se vado su gestione attività non trovo neanche l'applicazione dell'Ea Launcher per Windows in gestione attività quindi non c'è neanche lì quindi in questo caso se io adesso vado su proprietà e provo a mettere su compatibilità tolgo queste spunte, provo ad eseguirlo come Windows quindi su Windows 7 non va lo stesso ci clicco sopra, gira la rotellina ma non funziona quindi non si avvia proprio provo a farlo in un altro modo quindi vado su proprietà, compatibilità, tolgo questa spunta faccio applica, vado a vedere se devo togliere queste spunte qua su impostazioni di amministratore questo qua, faccio applica, faccio ok, tolgo tutto e provo a vedere se funziona lo stesso anche sulla sicurezza di Windows l'applicazione sicuramente non andrà quindi vado anche a vedere su avanzate per vedere se si collega anche all'archivio qui è tutto nella norma, vado a cliccarci sopra e non si avvia e non funziona quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare e app per Windows ovviamente quello che dovevamo fare è scaricare e riparare l'applicazione ecco qua, diceva che già è installata quindi faccio su ripara riparazione in corso come puoi vedere doveva fare degli aggiornamenti quindi ricerca aggiornamenti quindi aspettiamo così gli aggiornamenti da fare appena si scarica e installa i nuovi aggiornamenti non disinstallerà il vecchio e-app più i giochi farà solamente un aggiornamento quindi lo stiamo riparando ok, installazione riuscita facciamo sì accendo così con il mio account Google ed eccolo qua ed ecco che si è avviato e-app launcher vado a vedere nella mia libreria ci sono i miei giochi sul mio account collegato chiudo un attimo e-app launcher e provo ad avviarlo come amministratore ed eccolo qua ok, si avvia adesso senza scaricare l'aggiornamento possiamo avviarlo senza problemi quindi vado anche a vedere se posso scaricare e installare un gioco senza problemi vado a scaricare Apex che lo devo riscaricare e vedere un po' ok, il gioco me lo sta preparando e me lo sta scaricando senza problemi e questo video ti è stato utilissimo su come riparare lea launcher iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao